buongiorno eccoci qua anche oggi parliamo dei nostri prodotti fantastici allora ieri vi ho fatto il video da bagno di casa con lo scrub poi lo ripeteremo con i prodotti di ischia che vi vorrei illustrare allora ci abbiamo un sacco di novità tra cui questa che è la più venduta già ne abbiamo vendute diverse però ci sono numeri limitati quindi sono rimasti soltanto tre e praticamente il contorno occhi bava di lumaca che è l'estratto fantastico che noi conosciamo e diciamo è similare del video di ieri io ho messo il siero bava di lumaca con q10 e questo è il contorno occhi effetto lifting che ha sempre l'interno comunque l'acqua termale perché noi sappiamo che la linea di ischia viene direttamente da ischia è fantastica non ha prodotti nocivi a dei prezzi molto bassi perché la nostra ischia termine della bellezza punta soprattutto al prodotto e non alla pubblicità quindi lo troveremo in alcune farmacie lavorano in diciamo in simbiosi con delle case farmaceutiche e troviamo dei prodotti fantastici a dei prezzi ottimi che vi invito a provare ovviamente allora noi abbiamo questa confezione che è bellissima con il larnesino in giada per fare il massaggio al viso prima di mettere il siero la crema e tutto quanto che attiva la circolazione anche una pietra che comunque fa bene e tira fuori i nostri ioni positivi e quindi questa è la novità poi abbiamo la saponettina fantastica anche da regalare per chi viene 6 euro 6 6 euro e 50 alla vendita e abbiamo sotto il sapone loro puro il sapone solito alla lavanda e sopra abbiamo una fantastica spugnetta poi noi ci facciamo le confezioni particolari come sapete stiamo eliminando la plastica e cerchiamo di fare tutte confezioni con la carta delle buste particolari di carta pane dove verranno decorate col timbrino nostro eccetera eccetera quindi sono bei regalini un fantastico regalino per natale il più acclamato è la saponetta al fango termale la saponetta al fango termale come vedete è fatta particolare perché possiamo fare un massaggio alle braccia alle gambe al viso ci possiamo lavare il viso anche tutte le sere è come se facessimo una maschera istantanea e viene 6 euro e 90 poi abbiamo dei saponi particolari per chi ha la pelle secca che è sempre a base di limone e ad acqua di acqua termale all'interno c'è anche un pochino di miele e poi passiamo a tutta la via la linea della detersione latte detergente tonico la mousse questa è fantastica questa la uso io stasera vi farò un servizio per struccarmi mi troverete così sempre nel bagno di casa e la mousse è fantastica perché che cosa fa allora si clicca un pochino sulla mano si mette una cucina d'acqua si agita e è una mousse proprio struccante molto delicata per chi soffre di cuperose di perle arrossata poi abbiamo la nostra fantastica bava di ruma che come sapete il è una multifunzionale a tantissime vitamine all'interno ea il diciamo la capacità di essere cicatrizzante quindi quando noi la mettiamo sulla ruga d'espressione a lungo andare piano piano lenisce tutta la parte e come vedete un 50 ml viene 19 euro chi la utilizza conviene il 100 che viene 27 euro ma è formidabile a me il 50 ml come abbiamo detto sull'altro servizio mi è durata quattro mesi e io la metto sempre perché una goccina basta fino al collo poi abbiamo lo scrub scrub e microgranuli con all'interno degli oli essenziali al limone alle germe di grano e all'arancio sempre a base di acqua termale i suoi microgranuli permettendo di levare le cellule morte fare una scrub completa al nostro corpo che è questo proprio il momento stessa cosa c'è le spoglianti al agrumi piccolino piccolino che possono sempre 50 ml viene 11 euro e 50 voi guardate sempre i prezzi è in confronto a una collistar che noi vendiamo ma ci sta accalando tantissimo perché chi ha provato ischia riprende ischia anche perché la collistar ultimamente ha aumentato un pochino i prezzi poi abbiamo tutta la linea viso quindi anti age cuperosa per chi ha la pelle delicata che soffre di cuperose sempre con delle vitamine all'interno e ha un sacco di cosine buone parabeni anti rughe crema idratante che all'interno c'ha un pochino di collagene camomilla e vitamina e poi abbiamo un contorno occhi effetto seta sempre con un pochino di collagene all'interno sempre 50 ml poi abbiamo pelle giovane crema anti rughe fantastica viene 18 euro e 50 per chi ha la pelle giovane però vuole mantenere comunque un aspetto luminoso poi abbiamo queste sono due novità anzi tre novità compreso una crema effetto lifting immediato per chi vuole comunque combattere la rughe deve avere un effetto distensore stessa cosa per contorno occhi effetto lifting istantaneo e poi abbiamo la sebo riequilibrante che si può un pochino diciamo avvicinare alla sebo riequilibriante della collista della linea gianda per le pelli grasse per chi comunque ha una diciamo pelle un pochino più grassa dove può avere un po di sebo nella parte t e cioè nel nella nella zona t e con la sebo riequilibrante noi riusciamo a restituire l'equilibrio nella nostra pelle poi c'è il fango maschera di bellezza tutta la parte termale proprio che è shampoo al fango termale che è fantastico mio padre per esempio aveva dei problemi di bollicine sulla cute l'ha risolto con questo perché toglie il grasso sulla cote ma lo distribuisce distribuisce nella parte con il fango e con la cavomilla la ricostruzione praticamente nel capello alle punte ma alla parte della cute e toglie il grasso in eccesso dove c'è e lenisce dove serve ad ammorbidire un pochino e tant'è vero che mio padre ha combattuto prima prendeva uno speciale della chierastase poi è passato alla collistar e quando ha questa ho fatto delle bollicine sulla cute e lo combatte con questo mi ha assicurato che è il top quindi io lo consiglio a tutti anche ai maschietti e olio udermico per chi ha dei problemi di allergia che non può utilizzare dei saponi che fanno schiuma questo è fantastico sotto la doccia la maschera al fango termale che faremo questa sera nel servizio che farò sempre dal mio bagno e poi la maschera capillare perché questa serve con l'olio di jojoba che serve dopo l'estate per chi fa piscina per chi ha i capelli sfibrati come i miei per chi usa decolorazione e questo è proprio un impacco fango termale che ricostituisce proprio il capello poi abbiamo i fanghi anticellulite anche loro sono fantastici e le abbiamo anche in modo dose per provarli che vengono a 6 euro e 50 e tutta la linea corpo l'olio da massaggio alla mandorla pura questo lo possono mettere anche le donne incinte per elasticizzare la pelle perché senza siliconi senza paraffina e quindi la possono utilizzare anche le mamme in stato interessante per non far venire le smagliature abbiamo la crema fluida idratante la crema fluida elasticizzante al limone che il top poi abbiamo massaggio alla canfora che adesso insomma fa un po freddo quindi io preferisco andare sull'anticellulite termica questa la possiamo spalmare tranquillamente su tutto il corpo vedete il prezzo 26 euro per avere un doppio effetto ci incartiamo con un po di cellophane e riusciamo comunque a metterlo sulla pancia eccetera eccetera poi abbiamo la crema automassaggio snendenze crema addome e fianchi questa è tutta la parte nuova che vi può dare spunto dei regalini di natale buona giornata a presto